Tra ombre e luci, il consigliere regionale Guccione produce una clamorosa denuncia sulla scellerata gestione dei patrimoni delle aziende sanitarie ospedaliere calabresi e intanto tra visite ispettive e somtuose inaugurazioni, finalmente vengono sbloccate oltre 1300 assunzioni. Frattura profonda, moderati per la Calabria si presente, il nuovo gruppo in seno al consiglio regionale formato da Antonio Scalzo, Franco Sergio e Giuseppe Neri resteranno nel centro-sinistra ma la spaccatura con i Democrat è evidente. Operazione Alba Rosa, dieci arresti nella piena di Gioia Tauro, il blitz della polizia che fa luce su un vasto traffico di stupefacenti, le indagini partite dopo una tentata rapina al Monte dei Paschi di Siena. Grazie cittadini, a Cosenza il saluto del questore Giancarlo Conticchio, assumerà un prestigioso incarico alla Scuola di Polizia di Roma nel 1 agosto alla suo posto Giovanna Petrocca, originaria di Petiglia Policastro. A suon di derby, il calcio calabrese è rimasto orfano della Serie A, non perde tuttavia il suo appeal e rilancia con ben 14 stra-regionali. Crotone e Cosenza in B ritorna dopo 16 anni e in C il guanto di sfida di Catanzaro, Regina, Rende e Vibonese. Buonasera D'Alessio Buompasso e bentornati alla nostra informazione. Partiamo dalla sanità crotonese all'indomani proprio dell'ispezione ministeriale per il caso Brisinda. Oggi un'inaugurazione importante. Guardate. L'ospedale di Crotone ha ricevuto una visita ispettiva di due giorni effettuata da sei ispettori e due ufficiali del NAS, inviati dal Ministero della Salute per alcuni accertamenti sul caso Brisinda, il primario del reparto di chirurgia sospeso e poi reintegrato dall'ASP, per alcuni distidi con i colleghi. Gli ispettori hanno sentito lo stesso medico-chirurgo, i colleghi del reparto, ma anche il direttore generale dell'ASP Sergio Arena e altri primari del nosocomio. Intanto, nella giornata odierna, sempre al San Giovanni di Dio, sono state inaugurate tre nuove sale parto ed è stato riaperto al pubblico il reparto di cardiologia. Dopo la ristruttura ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico. È una tappa importante per la sanità crotonese. Credo che la sostenibilità del sistema sanitario nazionale e regionale, anche il nostro, non sia solamente sugli equilibri economici dei bilanci, ma sia sulla qualità e il miglioramento dei servizi. In tutti i due reparti e sale parte c'è molta tecnologia, c'è un controllo, specialmente in cardiologia, dei pazienti con telecamere, con adeguamenti, diciamo, di quello che è un po' il cambiamento anche nella sanità. Sono tre stanze adeguate per travaglio parto e a Nessa c'è una sala operatoria che è in via di completamento per quanto riguarda le attrezzature, ma sarà roba dei prossimi giorni completarla e renderla poi operativa anche per gestire le eventuali emergenze direttamente, come deve essere fatto, sullo stesso piano, nella stessa struttura, nello stesso posto dove la donna poi parto riesce. È importante appunto avere realizzato questi obiettivi che ci si poneva e grazie al lavoro che è stato portato avanti ora sono una realtà. Giuseppe Laratta per l'AC News 24. Restando al comparto sanitario, sbloccate finalmente le assunzioni, stiamo parlando di 1.366 nuovi posti di lavoro. 1.366 nuove assunzioni in sanità sono state deliberate dal commissario straordinario Massimo Scura. Una boccata d'ossigeno per le aziende del servizio sanitario regionale che in questi anni hanno dovuto fare i conti con tagli, lacrime e sangue e con una progressiva erosione del personale. Così, mentre finora si è solo proceduto a rimpiazzare i dipendenti posti in quiescenza, con il nuovo DCA il commissario rimpolpa gli organici azione che dovrebbe tradursi in nuovi servizi e in nuovi reparti. Il costo complessivo dell'operazione supera i 18 milioni di euro che però non sforerà gli standard fissati per la spesa del personale. Le nuove assunzioni andranno a pescare tra le figure specializzate. Quasi tutte le aziende hanno richiesto autorizzazioni per reperire i dirigenti medici e tecnici di laboratorio. Saranno assunti anche psicologi, educatori professionali, logopedisti e non mancano profili specificamente amministrativi. A recitare la parte del leone le aziende sanitarie provinciali che potranno così rafforzare i servizi sul territorio. Guida la classifica l'ASP di Reggio Calabria che ha strappato 306 assunzioni, seguita da Cosenza con 205, Crotone con 168, Catanzaro con 155 e Bibbo Valencia con 138. Rimpinguati ma in misura minore gli organici delle aziende ospedaliere. 392 complessivamente ripartiti tra i tre centri AB e il Policlinico Universitario. Luana Costa per la Cineus 24. Rimangono però nell'occhio del ciclone i concorsi per infermiere e operatore sociosanitario espletati dall'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro. Noi stiamo avviando questo ricorso in base al principio di trasparenza e oggettività che sono i cardini del concorso pubblico. Principi che secondo noi non sono stati rispettati. Ci aspettiamo che siano gli organi competenti a dare le giuste valutazioni. Per quanto riguarda l'oggettività già viene a mancare dall'esposto che la direzione sanitaria ha fatto per quanto riguarda le gradatorie. Noi non ci aspettavamo sicuramente un giudizio analogico ma una votazione sì. Qual è stato il criterio che loro hanno applicato nel valutarci? Con quanto è stata superata questa preselezione? È diventato soggettivo, un concorso soggettivo. Ha perso l'oggettività. Ecco perché chiediamo l'annullamento subito. Dobbiamo chiarire queste irregolarità in quanto in questa graduatoria sono entrati famiglie intere. Luana Costa per la Cineus 24. E in tutto questo si inserisce la denuncia del consigliere regionale Carlo Guccione il quale parla di gestione scellerata proprio del patrimonio immobiliare di proprietà delle aziende sanitarie e ospedalieri calabresi. Una consistente parte del patrimonio immobiliare non strumentale di proprietà delle aziende ospedaliere e sanitarie calabresi rischia di finire nelle mani dei privati per pochi spiccioli attraverso la pratica dell'uso capione. Il consigliere regionale Carlo Guccione lancia l'allarme nel corso di una conferenza stampa convocata a Cosenza nella quale carte alla mano denuncia le gravi inefficienze nella gestione di edifici e terreni riconducibili agli enti preposti all'erogazione di servizi per la salute ma di fatto da anni in possesso di soggetti terzi che adesso si stanno rivolgendo alla magistratura per acquisirne la piena titolarità. Il Tribunale di Palmi ha già emesso in tal senso due sentenze con le quali ha trasferito la proprietà di terreni per un totale di oltre 73 mila metri quadrati precedentemente appartenente all'aspe di Reggio Calabria ma vi sarebbero in corso una miriade di cause analoghe incardinate nei palazzi di giustizia di tutta la Calabria. Nella ricognizione del patrimonio immobiliare di aziende sanitarie e ospedaliere avviata da Guccione sono però emesse anche altre anomalie. I contratti di locazione sono tutti scaduti, molti canoni di affitto non vengono corrisposti da anni, altri ammontano a cifre ridicole. Tra i casi limite vi è un contratto stipulato in forma orale, non si sa in quale data, per un'abitazione in affitto di 75 metri quadrati a Pizzo Calabro, del valore commerciale di oltre 60 mila euro per la quale il locatario versa un canone annuo di 49 euro e 60 centesimi. In provincia di Cosenza invece risulterebbe ancora in essere il contratto di affitto di un terreno scaduto nel 1926. A Tauria 9 infine da segnalare la grottesca situazione di una unità immobiliare di 50 metri quadrati locata nel 1957 per la cifra di 2 euro e 47 centesimi l'anno, il cui affittuario incredibilmente risulta inadempiente. E pensa che ci sia del dolo in tutta questa situazione? Credo che ci siano anche i poteri criminali che sono interessati a entrare in possesso di questo grande patrimonio che non è stato valorizzato dall'ASPE dell'ACA ma ha un valore economico enorme, non si riesce a capire se sono terreni agricoli o terreni rinificabili, le cose cambierebbero di molto. Questo è un meccanismo che potrebbe, se non interrotto, potrebbe al cittadino che all'affittuario mettere in gambo un meccanismo dell'uso capione con un grande danno economico erariale enorme per le ASPE, per l'azienda ospedaliere. Salvatore Bruno per la Cineus 24 E adesso guardate queste immagini, siamo su Viale Crotone a Catanzaro dove un muro ha ceduto come vedete travolgendo anche due auto, la struttura è interessata dal fenomeno di dissesto alto circa 4 metri, costruito in mattoni forati, versava in una condizione di forte degrado e delimitava la zona del cortile condominiale adibita a parcheggio dal terreno di proprietà delle ferrovie dello Stato, situato a pochi metri dai binari. E adesso la politica in seno alla Consiglio regionale, affollata conferenza stampa per la presentazione di moderati per la Calabria e il nuovo gruppo, formato da Antonio Scalzo, Franco Sergio e Giuseppe Neri rappresenta l'ennesima spaccatura all'interno dei Democrat. Battesimo mediatico per il nuovo gruppo consigliare moderati per la Calabria. Giuseppe Neri, Franco Sergio e Antonio Scalzo hanno scelto la sala giuridita elevato di Palazzo Campanella per annunciare ufficialmente la creazione di una nuova formazione politica e spiegare le ragioni che li hanno portati a questa decisione. Per realizzare il programma che ci siamo dati nel 2014 è quel programma che gli elettori hanno votato e hanno consentito la nascita di questo Consiglio e di questa maggioranza. Rimangono nel centro-sinistra insomma i tre consiglieri regionali, anche se la loro posizione nei confronti della gestione Oliverio è assai critica, così come lo è nei confronti del capogruppo del PD in aula, Sebi Romeo. Abbiamo più volte manifestato la nostra difficoltà ad esercitare in fondo il ruolo, non all'interno del partito, all'interno del gruppo consigliare. In tre anni e mezzo abbiamo fatto due riunioni di gruppo, questo è il dato davanti agli occhi di tutti. La richiesta è quella di una maggiore collegialità e di confronto con la Giunta che avrebbe svilito il ruolo del Consiglio. Noi vogliamo solo partecipare, essere coinvolti, poter dire alla nostra, poterci confrontare liberamente, questo è nel ruolo di un sistema democratico. Neri non ha risparmiato bordate al PD, privo di un punto di riferimento regionale. No, ancora abbiamo in programma un incontro ovviamente, però ancora non c'è stato, ma al momento non vedo alcun tipo di problema, perché abbiamo spiegato anche le finalità per cui nasce questo gruppo che potrebbe dare un contributo generale a tutti, però al momento ancora non abbiamo avuto nessun incontro ufficiale. Di visto anche l'assenza degli organi statutari non c'è al momento un segretario regionale, quindi dobbiamo anche capire con chi aprire anche una discussione. Riccardo Tripepi per la CNews 24 Siamo alla cronaca 10 arresti, luce su una vasta attività di spaccio di stupefacenti, ma anche sulla tentata rapina al Monte dei Paschi di Siena. Stiamo parlando dell'operazione Albarosa. Spaccio di stupefacenti, tentata rapina, ricettazione, detenzione e porto illegale di arma da taglio. Con queste accuse mosse a vario titolo, il GIP del Tribunale di Palmi ha ordinato l'arresto di 10 persone originarie tra Cinque Frondi, Rosarno e Candidoni nella piana di Gioia Tauro. Per 5 è stato disposto il carcere, mentre per gli altri 5 i domiciliari. Alcuni indagati però si trovano già reclusi per altre vicende. L'inchiesta, denominata Albarosa, è stata condotta dal commissariato di Tauria Nova con l'ausilio delle squadre mobili Vireggio Calabria e Prato. L'indagine della polizia e della procura retta da Ottavio Sferlazza è stata avviata il 29 agosto del 2016 in seguito al tentativo di rapina commesso alla filiale di Tauria Nova della banca Monte dei Paschi di Siena. Nell'immediato gli investigatori hanno individuato le auto usate dai presunti rapinatori, ossia Fabio Scarfò, Angelo D'Agostino e Francesco Papasidero. Da questo episodio gli inquirenti hanno allargato le indagini arrivando a scoprire il giro di spaccio di droga sulla piana. Sono stati accertati inoltre i contatti tra gli indagati con altre persone residenti in Nord Italia, in Puglia e con uomini di nazionalità albanese con i quali avrebbero organizzato l'acquisto di droga. Riscontri fondamentali per l'accusa. L'arresto di Fabio Scarfò avvenuto a Torino nel 2016 trovato con più di un chilo di eroina e quello di Diego Falleti avvenuto a Melicucco che trasportava 50 kg di marijuana all'interno della propria auto. Angela Panzera per la CINUS24. A Cosenza il commiato del questore Giancarlo Conticchio assumerà un prestigioso incarico alla Scuola di Polizia di Roma. Giancarlo Conticchio lascia l'incarico di questore di Cosenza per andare a ricoprire il prestigioso ruolo di vice direttore della Scuola di Polizia di Roma. Nel corso di una cerimonia di commiato alla presenza delle massime autorità militari ed istituzionali del territorio ha ringraziato i suoi collaboratori e l'intero corpo di polizia per il lavoro svolto negli anni della sua permanenza nel capoluogo Bruzio. Il ricordo che porto con me è quello che ho visto la città, ho visto i cosentini dell'intera provincia rispondere con entusiasmo ai vari appelli che ho lanciato, cioè quello di collaborare, di essere cittadini partecipi nella sicurezza. La sicurezza non è un problema che riguarda solo la Polizia di Stato. Giancarlo Conticchio sarà ricordato anche per aver evogato prima volta in Italia la sanzione del DASP urbano. Entrate in vigore solo di recente. Sono orgoglioso di averlo firmato e sono orgoglioso di aver preparato con la mia squadra di funzionari questo provvedimento. È stato il primo in assoluto sul territorio nazionale perché gli strumenti legislativi al questore vengono dati, sono più rapidi di quelli dell'autorità giudiziaria. Quindi io dico sempre a me stesso, io sono un fautore della prevenzione, quindi dove il questore può incidere con la prevenzione è bene perché la repressione vuol dire che già il reato è stato consumato, lo Stato ha fallito. Salvatore Bruno per la Cineus 24. 53 anni, originario di Drapia, attuale parroco di Limbadi, Don Francesco Massara e il nuovo vescovo di Camerino. Oggi l'assemblea straordinaria del clero diocesano a Mileto per l'annuncio ufficiale della nomina. Una cerimonia essenziale ma significativa per un annuncio accolto con giubilo dalla comunità dei fedeli e da tutto il mondo ecclesiastico calabrese. Don Francesco Massara è vescovo. Il sacerdote, nato 53 anni fa a Tropea, attuale parroco di Limbadi, guiderà per volere di Papa Francesco l'arcidiocesi di Camerino, San Severino Marche. A dare l'annuncio ufficiale, il vescovo di Mileto, Monsignor Luigi Renzo, davanti all'assemblea straordinaria del clero diocesano convocata per l'occasione. Un riconoscimento per un sacerdote da sempre introdotto negli ambienti del clero romano che premia l'impegno speso a favore di Santa Romana Chiesa fin dal 1993, anno della sua ordinazione sacerdotale. Il fatto che abbia avuto questo riconoscimento, questo apprezzamento da parte del Santo Padre fa onore a lui e fa onore anche alla nostra Chiesa. Dove va riesce a entrare al cuore nella gente, così come era avvenuto, eppure un anno e qualche mese è stato a Limbadi, però aveva talmente rivoluzionato un po' la situazione che mi auguro di trovare adesso un rimedio perché non abbia a finire quell'entusiasmo che si è avviata in quella comunità cristiana. Dall'Imbadi a Camerino, dalla Calabria Profonda alle Marche segnate dal terremoto del 2016, una missione che Don Francesco, che sarà consacrato a Mileto il 6 ottobre prossimo, intende portare avanti con lo spirito che lo ha sempre contraddistinto da buon pastore a servizio dei suoi fedeli. Come ho fatto il parroco a Limbadi, continuo ad andare a fare il parroco a Camerino, da vescovo, ma cercherò di portare veramente il Vangelo, la speranza, la paternità, la fratellanza, i sagerdoti e alla gente di Camerino che mi aspetta con grande gioia. Vado a portare una speranza a questa popolazione che ha sofferto molto e mi affido anche a San Francesco che mi possa aiutare ad essere un buon testimone del Vangelo. Stefano Mandarano per la Cineus 24. Mentre a Lamezia tutti i teatri, come sapete, sono stati chiusi dai commissari, a resistere è un piccolo teatro indipendente e autogestito. Guardate. L'estate il TIP è aperto anche di mattina, sia per gli amici che anche per gli studenti come me. Infatti vengo qui a leggere, a studiare, a consultare i vari volumi che ci sono nella biblioteca e anche per stare in ottima compagnia durante il caldo estivo. Un teatro ma anche un luogo di incontro, di scambio, di proiezioni ed esposizioni. Un luogo in cui studiare, in cui poter consultare uno tra i fondi librari di cinema più grandi dell'intera Calabria con anche una mediateca. È rimasto solo lui il TIP, teatro indipendente ed autogestito, a mantenere i battenti aperti alla mezzia terme. Una realtà nata dal basso, ricorsa anche due volte al crowdfunding, ma che continua a macinare eventi, ad essere frequentato sin dal mattino. Non dobbiamo però cadere nel tranello di una finta retorica all'inverso, ovvero tutti i teatri chiudono, noi ci siamo, noi siamo eroi. No, però è anche vero e bisogna ammetterlo che il TIP, da questo punto di vista, sta comunque resistendo. Ci siamo messi sotto, diciamo, più di un'estate e finché non abbiamo trovato questi begli spazi. Fin dall'inizio abbiamo deciso di aprire le porte, oltre che per le nostre esigenze, per le esigenze di tutta la città. La porta è aperta soprattutto ai molti giovani, ai molti ragazzi che hanno comunque dei sogni, che hanno a che fare comunque con la cultura, con delle iniziative artistiche e che si trovano appunto le porte chiuse altrove. Tiziana Bagnato per la CNews24 Presentata la diciottesima edizione del Festival Internazionale Leoncavallo. La novità dell'edizione 2018 del Festival Vugevo Leoncavallo di Montaltù Fugue è il ritorno al concorso lirico internazionale, fulco dell'intera manifestazione presentata in una conferenza stampa organizzata nell'antica e suggestiva sala consigliare. Il direttore artistico, il maestro Filippo Arlia, considerato dalla critica internazionale uno dei più brillanti e versatili musicisti italiani della sua generazione, ha già tenuto più di 350 concerti sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, ma anche ha deciso di coltivare il suo talento in Calabria. Alla guida del Tchaikovsky di Nocera Terinese, a soli 29 anni, è il più giovane direttore di Conservatorio d'Italia. Avremo il concorso lirico, dopo tantissimo tempo, con tanti giovani provenienti da tutto il mondo a gareggiare per una competizione che finalmente ha riavuto il prestigio che merita e si chiuderà in bellezza poi con il ritorno, dopo ben 11 anni dell'opera lirica, i pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra filarmonica della Calabria e un cast di stelle della lirica, da Fabio Armiliato a Renata Vari a Leonardo Linares, per riportare l'opera Montaltù Fugo. Nel cartellone, presentato con il sindaco Pietro Caracciolo e l'assessore alla cultura Emilio D'Acri, il concorso e l'opera rappresentano il piatto forte, ma ci sarà spazio anche per la musica da camera, la poesia, il jazz e il teatro in vernacolo. E poi per uno speciale appuntamento di danza con l'insegnante Alessandra Celentano, nota al grande pubblico per il suo ruolo nel talent show Amici. Abbiamo voluto anche utilizzare il festival come contenitore per inserire dentro altri fenomeni culturali, quali concorsi di poesia, rappresentazione di prosa e altro ancora. Salvatore Bruno per la Cineus24. Prima di passare allo sport, una notizia appena giunta. In redazione, la Gemma Insieme, il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, Silvia Capone, presidente, ha annullato il provvedimento di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP nei confronti del sindaco di Palizzi, Arturo Walter Scerbo, e ne ha ordinato l'immediata liberazione. Scerbo era stato arrestato lo scorso 30 giugno, nell'ambito dell'operazione Affare Comune su diversi reati contro la pubblica amministrazione. Scerbo, in particolare, era accusato di tre episodi di peculato con connessi reati di falsità ideologica. E adesso, come dicevamo, lo sport senza Serie A, ma dallo spettacolo garantito, la nuova stagione calcistica calabrese promette scintille e tanti derby. 14 derby, 7 durante il girone d'andata, altri 7 dopo il giro di Boa. 6 grandi piazze regionali, migliaia di tifosi che non aspettano altro che vincere quella che per alcuni è la partita dell'anno. In Calabria è saltata la Serie A, ma tra Serie B e Serie C il divertimento non mancherà. Anzi, in seconda e terza serie nazionale fioccheranno le stra-regionali, mai come quest'anno. Il più prestigioso si giocherà tra i cadetti, con Cosenza e Crotone, che si ritroveranno di fronte 16 anni dopo l'ultima volta. La neopromossa e la retrocessa, chi non vuole fare la comparsa e chi vuole tornare subito nell'Olimpo del calcio italiano. Braglia contro Stroppa, Cosenza contro Crotone. Sarà tutto questo e molto di più. Scintille previste anche in Serie C. Regina, Rende, Catanzaro e Vibonese si scontreranno tra loro dando vita a 12 derby, tutti da vivere. La regina incontrastata allo scorso anno fu il Rende, che vinse praticamente tutti gli scontri diretti contro le cugine calabressi. Ma quest'anno c'è da scommetterci, nessuno vorrà steccare. Non vorrà farlo il Catanzaro di Mr. Oteri, che punta ad un campionato di prima fascia, al pari della regina di Taibi e Cevoli, che hanno costruito un gruppo numeroso e di qualità, come la Vibonese, che di fatto ha confermato lo zoccolo duro della passata stagione, impreziosendo il mosaico in mano a Mr. Orlandi, con tasselli di categoria e giovani dal talento già esploso. Insomma, ci sarà da divertirsi. E come? Alessio Compasso, per Macinus24. Era il nostro ultimo servizio, grazie e ancora buona serata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. La C-News24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. La C-News24, la Calabria che fa notizie.